Siamo riparati sotto un albergo. Buongiorno amici. Sotto la storia di un albergo. Esatto. Oggi è il 10 dicembre e facciamo i borghi dell'Alsazia. Adesso siamo, non so come si pronuncia? Eguisceim. Vabbè, ve lo scriviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in questo posto carino, a Requivir. Siccome c'è troppa gente ci siamo rifugiati in questo posto e io ho preso la tarte flambe coi funghi. Ciao, assaggiamo questa. Ah ma pensavo che era quel tomate invece è così. E questa è Requivir affollata di gente ragazzi. e questa è Quattro, assaggiamo, 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 assaggiamo. e questa è Quattro, assaggiamo, assaggiamo. e questa è Quattro, assaggiamo, 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 assaggiamo. Ciao amici, se vi è piaciuto questo tour dei borghi e questo tour dell'Alsazia mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao. Tutto buio.